costruiamo ora la scala a partire da un rilievo pianta sezione fatto in AutoCAD e importato in Revit quindi questo qua è un blocco per capirci, un blocco di AutoCAD quindi un disegno di AutoCAD bidimensionale inserito in Revit nella planimetria ora andiamo a vedere le quote, la nostra scala sarà larga, chiaramente ha due rampe l'abbiamo visto all'inizio nel video precedente è larga 1,20 in metri e la distanza interna fra le rampe è di 0,32 una cosa interessante è l'interasse, quindi solette, noi l'abbiamo inserita la scala piano a terra ma potrebbe benissimo essere poi portata a diversi piani, diverse altezze la distanza fra il pianerottolo, quindi distanza fra piano e piano è 3,40 questo è l'altro dato che ci interessa ovviamente se partiamo sul piano a terra non vediamo niente e dobbiamo a questo punto nella vista sud definire la distanza corretta dei livelli noi abbiamo già, o meglio, normalmente Revit predispone due livelli, il piano a terra e il primo piano a distanza standard allora noi portiamo la distanza, quindi l'altezza del primo piano a 3,40 come nella planimetria di progetto quindi abbiamo creato, o meglio, abbiamo posizionato il primo piano a un'altezza corretta planimetria, ritorniamo, 3,40 e questo è la nostra pianta, quindi la nostra vista, il nostro disegno allora, inizio, iniziamo a inserire le scale esistono già le scale ovviamente predisposte fra l'altro la scala è una famiglia di sistema bene, disegniamo a partire da la rampa quindi partiamo da questo punto secondo punto saltiamo direttamente all'altra parte della rampa terzo punto e visto che non abbiamo calcolato bene il numero di alzate pedate inseriamo la scala in questa maniera è chiaro che la scala viene adeguata a seconda della impostazione che attualmente è eseguita nel sistema quindi abbiamo visto come è abbastanza agevole inserire una scala però non la inseriamo perché non abbiamo controllato le proprietà notare che in Revit quando si attiva una procedura di progettazione quindi di definizione di un componente compaiono queste due icone e tutto il resto come si può vedere diventa trasparente o comunque in grigio vuol dire che per uscire da questa modalità di progettazione quindi di definizione di componenti devo assolutamente o accettare termina oppure modificare quindi annullare in questo caso annullo perché non mi piace la scala che sto disegnando quindi scala ripeto però prima di inserirla vado in proprietà ho una scala che ha queste caratteristiche intanto ha una larghezza di un metro e io so che è un metro e venti quindi scrivo un metro e venti numero di alzate in realtà non le so però so che la profondità reale della pedata l'ho misurata qua dovrebbe essere 0,28,27 una volta poi completata la modifica della scala con termina modalità di modifica ricordo che è assolutamente necessario non si possono fare altre operazioni dobbiamo fare una delle due o termina oppure annulla termina abbiamo la scala completata andiamo in 3D e vediamo in 3D la nostra scala in assonometria questa è la scala completata e come si può vedere sono state aggiunte anche le ringhiere di default quindi di base che nei video successivi andremo a modificare